Siamo in via Donnarumma Bracigliano, qui a due passi c'è l'abitazione dell'assessore Giovanni Cardaropoli, assessore all'ambiente del comune di Bracigliano, da sempre battagliero sul fronte Gori, sul fronte ambientale, insomma una persona da sempre in prima linea per la difesa del territorio. Ebbene due sue autovetture, un Fiat Ducato e un Opel Astra Station Wagon, sono state date alle fiamme da ignoti e poteva essere un dramma perché qui vicino c'è la cabina dell'elettricità e non solo, anche del gas. Insomma poteva veramente esserci una tragedia, tra l'altro a due passi c'è l'abitazione in costruzione ancora dell'assessore Cardaropoli. Due persone del posto, avete avuto una grande paura? Sì, per essere le mezzanotte e mezzo così, abbiamo sentito i pompieri che arrivavano e niente, siamo su un posto e abbiamo visto le macchine in fiamme. Ecco, che cosa pensavate fosse successo? Perché a un certo punto anche qualche pneumatico è scoppiato, quindi avete sentito anche dei rumori belli forti. Sì, è vero, abbiamo sentito un po' forti i rumori, ho messo paura, tutto qui. Siete scesi subito in strada? Sì. Che cosa vi hanno detto? Qual era la percezione, le immagini che avete trovato di fronte? Che cosa diceva la gente? I primi impatti dicevano che è successa la cabina più che altro, perché vedendo il fuoco qua... Non pensavo fosse successo qualcosa all'interno. Mai immaginare che c'erano le macchine dietro qua, però è andato a vedere sul posto, abbiamo visto... In più poi un'altra macabra scoperta, quella del compattatore dei rifiuti che è stato dato al fuoco, anche quello. Sì, è vero, dietro a Comuna. Non lo sappiamo come è successo là. Ma che cosa succede? Brasigliano sotto scacco, che cosa sta succedendo? Non lo sappiamo, non lo sappiamo niente. Da un periodo, da un anno o due, non si capisce niente più. Ma eccoci, siamo proprio alle spalle della piazza municipio, del comune di Brasigliano. E dietro di noi il compattatore dei rifiuti, completamente andato distrutto dalle fiamme. Ed è questo che, messo insieme alle due vetture che abbiamo visto in precedenza in via Donnarumma, praticamente completamente bruciate, dell'assessore all'ambiente Cardaropoli, fa riflettere i carabinieri che stanno indagando su questo fatto di cronaca, che a questo punto non è più un fatto personale legato all'assessore Cardaropoli, al cittadino Giovanni Cardaropoli, ma si allarga ovviamente come azione, anche verso l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Rescigno. E la cosa grave è che non si capisce perché, almeno al momento, non si hanno minimi sospetti, almeno per quanto mi riguarda, che possa aver successo quello che è successo questa notte. Questo atto intimidatorio che giunge in un comune, il suo, che sta battagliando con la Gori, sta battagliando sul fronte ambientale per tante cose, può esserci dietro anche un senso di questa situazione legato magari a queste vostre battaglie a livello ambientale? Ma non credo perché, almeno nel settore dei rifiuti, noi stiamo lavorando con serenità insieme ai cittadini che stanno collaborando ottimamente al risultato della raccolta della deferenza. Comune riciclone, tra l'altro. Comune riciclone, siamo intorno all'80%, quindi i cittadini collaborano, collaborano perché è giusto vedere un paese bello, un paese pulito, penso che fa piacere a tutti quanti. Pensare che l'assessore e la famiglia stavano dormendo, stavano in casa, quindi poteva essere qualcosa molto più grave. Non si capisce, come detto prima, il perché di questo interrogativo, visto che Brasigliano è un oasi che è bene o male, con tante difficoltà sicuramente, ma non certamente di questa portata. Quando mi sono accorto della cosa era già molto tardi, quindi non c'era nemmeno la possibilità di intervenire per spegnere le cose. Visto proprio la pericolosità della cosa, io ti ripeto, ho fatto la cosa che mi è venuta subito in mente, prendere i miei figli e andare via, li ho portati da mia mamma. Le telecamere stanno ovviamente dando una mano alle indagini, perché credo che qualche cosa verrà fuori dalle immagini delle telecamere davanti a casa sua. Lei però minacce non ne ha subite, mi diceva. Quindi anche il sindaco ci ha appena detto, noi non capiamo perché. È vero, io non riesco a darmi da stanotte spiegazioni, è un perché, un motivo a questa cosa. Noi effettivamente siamo un paese che per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti stiamo avendo dei grossissimi risultati, grazie all'impegno di tutti quanti, dei cittadini, del sottoscritto, del sindaco, dell'intera amministrazione. Abbiamo raggiunto l'80% di raccolta, abbiamo avuto dei risparmi sulle bollette, stiamo facendo un ottimo lavoro, riconosciuto anche fuori da Bracignà. Non riesco a trovare una spiegazione, un motivo. Non ho avuto minacce, non ho avuto avvicinamenti, non ho avuto richieste particolari. Quindi effettivamente non mi riesco a rendere conto del perché è successo questo.